I luoghi di Leonardo nelle tele di Piero proseguono infatti le celebrazioni nella 500esimo anno dalla morte di Leonardo da Vinci con una mostra storico-fotografica di Piero Franchini, un'esposizione in piazza grande all'interno del fotoclub La Chimera sotto il alloggiato vasariano, foto ma non solo, presente anche un'esposizione delle macchine di Leonardo costruite da Paolo Lacrimini con i progetti proprio del genio di Leonardo da Vinci.